Eh sì, questa è la nuova serie di Tutoriality. Bene, questa sarà la Tutoriality Peluche. Incominciamo perché non voglio che sblocchi la registrazione. E come sempre, il confessionale. Eh sì, è un po' stretto, ma tanto bisogna andarci dietro. E ora, iniziamo! E ora, iniziamo! E ora, iniziamo! Bene, questa è una giungla. Sì, pensiamo più al molo, ma alla giungla! E ora, ecco che scendono al palco! 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 Link! Che bello! Ritornare da tutte le altre! E quello che io chiamo peluche, ma non è un peluche, è fatto solo di lana! Yoshi! Ho pagato! Ho pagato, sì! Quindi farmi fare della sfida decente! Va bene! Ok, ora, la prima sfida! Dovrete scalare con questo! Questo albero! E poi, quest'albero! Nyefn! Che è anche intitolato l'albero più grande della bossa, della foresta! Ok, inizio tigrotto! Sì, ce l'ho fatta! Ah, mi sarei filmato al terzo! Chi è? Chi è quello ridone? Non devi fermarti! Mancano solo due! Sì! Quindi, facciamo la seconda sfida e ultima! Dovrete andare sotto il letto, cioè sotto la grotta e poi dovreste distruggere i sassi, i sassi in rompibili! Sì, vabbè! Sì, vabbè! Lancio i sassi! Lancio i sassi! Lancio i sassi! Ecco, andate! Buongiorno! 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 Tutti i sassi! Tutti i pezzettini, papà! Tutti i pezzettini, papà! Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio BANG! AAAAAH! Ma che è? Sono durissimi! Irrompibili sono! Ora è l'eliminazione! Tutti alla fine dell'eliminazione! Non abbiamo più le squadre! Link, sei salvo? Yoshi, sei salvo? Derbrother, sei salvo? E... l'eliminato è... NESSUNO! Ebbè, è la prima puntata! Non ha tutti i torti! Quindi nessuno verrà scaricato dal bidone della spazzatura! Bidone della spazzatura? CHE CAVOLO! Vuoi scherzare? No! Bidone della spazzatura, bla bla! E' arrivata! L'edupile! L'edupile! L'edupile!